Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Il governo Conte sarebbe arrivato al conto, il conto grazie. Quindi ci sono in atto le ultime trattative per un Conte III o un nuovo esecutivo, ma si evince che Renzi di un Conte III non ne vuol sentir parlare. Ha fatto 30, dice facciamo 31, via Conte e mettiamo un'altra persona, sempre che non ci sia l'obbligo di mettere Conte un'altra volta, se dovesse essere o Conte o elezioni anche Renzi direbbe Conte per la terza volta. Così il Giuseppi potrebbe mettere nel curriculum tre volte presidente del Consiglio, sapete che lui con i curriculum li gonfia un po', no? Le mosse per evitare il voto in Parlamento. Il voto in Parlamento che significa? Non è il voto degli italiani, ma il voto in Parlamento per dare la fiducia o no al Giuseppi III. Ma il Giuseppi III comunque sia, che sia Giuseppi III, che sia un altro presidente del Consiglio, o ci sia un rimpasto consistente di ministri, che si porterà comunque a una fiducia in Parlamento. Almeno così dice il Mattarella, il nostro sovrano. Così Renzi vuole aprire la crisi e solo dopo trattare il nuovo assetto e l'idea che prevale nel PD. Quindi il 7 gennaio, sempre se il Renzi manterrà la sua promessa, vabbè, nessuno crede più a Renzi. Però questa volta sembrerebbe ormai obbligato a fare quello che ha detto, perché se no dovrebbe vergognarsi come uno struzzo. E così, dentro Italia Viva, gli umori sono bellicosi, ma bellicosi contro se stessi. Dice, ma chi me l'ha fatto fare di andare a seguire Renzi in un partitello? Stavo nel PD. Ma molti, attenzione, molti, sono andati con Renzi, non perché credevano in Renzi, perché era loro l'ultima spiaggia, perché nel PD non erano più graditi, quindi non sarebbero stati più rieletti successivamente nella prossima legislatura. Quindi ha detto, andiamo con Renzi e che Dio ce la mandi buona. Non gliel'ha mandata buona, perché col 2,5% sono destinati, se si votasse domani come simulazione Ipsos, solo Italia Viva avrebbe un solo senatore, che sarebbe, indovinate chi? Matteo Renzi. E avrebbe otto deputati. Otto deputati devono essere persone che hanno una certa età, perché se uno ha l'età per fare senatore non può fare il deputato. Quindi otto deputati sono un po' pochini, visto che adesso i deputati di Italia Viva sono 30, 30, 30. Quindi 8, 16, 24, eccetera, eccetera, uno su quattro ce la farà. Gli altri sarebbero licenziati in tronco, ecco, buttati fuori dalla politica. E chi se li ricarica più, nessuno se li può ricaricare. E così il governo è appeso al... Ormai Renzi farà saltare il banco, il 7, ma più che appeso alle mosse di Renzi, è appeso alle consultazioni con Mattarella. Che cosa deciderà Mattarella? Molti sono convinti che farà nascere un altro governo, il terzo governo con lo stesso esecutivo, che ha ormai dei voti che realmente sono irrisori. Se Mattarella dicesse le stesse cose del Conte I alla fine, diceva che per far nascere un governo Conte II, la maggioranza deve avere dei numeri certi. Ecco, i numeri certi erano poco più della soglia del minimo. Adesso che questi numeri certi non ci sono più, come fa a fare nascere un altro governo dicendo facciamo nascere il Conte III, il Draghi I o Cipalippa IV? E dove sono i numeri? Dove sono i numeri che possono essere... portare avanti un esecutivo giusto? Si può Mattarella accettare un governo con dei mercenari in arrivo da Forza Italia? Un gruppetto di gente in cerca di un altro lavoro? Può un governo reggere su gente in cerca di un altro lavoro? E insomma, Mattarella... Ho capito che Mattarella è un uomo di sinistra e che non vuole un governo Salvini, non lo vuole, è la mia opinione, ma lui non lo vuole. Quindi, se fosse veramente super partes, direbbe, bene, si va a votare immediatamente, si va a votare il 15 di febbraio, il 15 di marzo, il 15 di aprile, il 15 di maggio, il 15 di giugno. Ce n'è di tempo, ce n'è di tempo per andare a votare e facciamo andare avanti un governo tecnico. Bene, ecco. L'ex premier andrà fino in fondo. Chi è l'ex premier? Ancora non è Conte l'ex premier, ma è Renzi, l'ex premier. Andrà fino in fondo, ormai è sicuro. La crisi di governo è aperta. Non raccontiamoci la storia di Paperone e i qui-quo-quà in viaggio per la giungla. Quindi, ormai la crisi è aperta. Il che vuol dire che già da lunedì ogni giorno è buono perché il senatore toscano ritiri la sua delegazione e apra la crisi. Forse non c'è neanche bisogno di aspettare il 7 di gennaio. Lo può fare il lunedì che viene. Bene. Uno strappo che potrebbe portare a un rimpastino, a un conte terzo o a un nuovo governo. Un nuovo governo può essere con questa maggioranza o al voto. Il rimpastino a che serve? Serve a qualcosa il rimpastino? Avere mezza poltrona in più per Renzi? No. Un conte terzo? No. Renzi vuol far fuori conte. Renzi vuole fare il premier, vuole fare il candidato premier della sinistra e Conte è troppo ingombrante. Dicono che un suo partito avrebbe tra il 15 e il 20%. Dicono che Conte, a capo dei 5 Stelle, riporterebbe il movimento al 30%. Bene. Renzi vuole aprire la crisi e solo dopo trattare il nuovo assetto. Quindi, prima la crisi e poi vediamo che si può fare. Tanto alla fine è sempre in tempo a tornare indietro a dire beh, ho capito che Conte è un bravo uomo, lavora bene, ho fiducia in lui come ha già fatto in passato. Con le minacce in passato a un certo punto aveva cambiato drasticamente quando il suo partito non si rilanciava e rimaneva al 2,5%. Ho cominciato a dire Conte, la pensiamo uguale al 95%. Che bella persona, che grande presidente, è un grande presidente, un po' come Calboni nella saga di Fantozzi, quando passava al direttore Genesco, è un grande presidente, è un bravo presidente. Ecco, Calboni è un po' come Renzi, no? Il geometra Calboni è un po' come il senatore di Firenze. Vabbè, nel prossimo video andremo avanti a parlare di queste cose e non perdetevi a vedere video shock in giro per YouTube, ma guardate dei video seri. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.